Ben ritrovati da Fabio Camillacci, terzo capitolo di Crimini e Criminologia. Dopo i due primi capitoli dedicati siamo tornati a parlare della storia sempre più intricata del mostro di Firenze ma con l'ospite che abbiamo avuto abbiamo detto che a breve potrebbero esserci nuovi clamorosi sviluppi. Ora parliamo di un'altra storia altrettanto intricata ma di tipo decisamente diverso. Alle ore 20 e 59 del 27 giugno 1980 un aereo DC-9 della Compagnia Italia in volo da Bologna a Palermo con 81 persone a bordo precipitò in mare non lontano dall'isola di Ustica a nord di Palermo. Dopo 40 anni di indagini e processi tra reticenze e depistaggi la tesi più accreditata è quella che il velivolo sia stato abbattuto per errore durante una battaglia aerea tra caccia libici e della Nato. Ma le dinamiche di quell'incidente e i suoi responsabili rimangono ancora in gran parte sconosciuti. Ma la verità è che non siamo ancora così certi che il DC-9 dell'Italia, quel 27 giugno 1980 sia stato abbattuto da un missile o sia caduto per una collisione, per una battaglia aerea sui cieli del Mediterraneo perché soprattutto poi in una prima fase delle indagini prese corpo l'ipotesi della bomba. Quell'ipotesi bomba che poi negli anni è stata in qualche modo accantonata proprio per dare spazio per in qualche modo evidenziare il lavoro della magistratura del giudice Rosario e non è stata in qualche modo. Ma c'è chi tra tanti come il nostro ospite che ora vado a presentare che invece insiste sull'ipotesi bomba e recentemente ha realizzato anche un libro per spiegare perché è più giusto parlare di bomba a bordo ma soprattutto perché è giusto escludere l'ipotesi battaglia aerea. Lo abbiamo in collegamento Skype, lo ritroviamo dopo la trasmissione estiva in occasione dei quarant'anni dalla strage di Ustica. Antonio Bordoni, bentornato a Cusano Italia TV. Buonasera, buonasera. Esperto sicurezza volo e autore di un altro libro, ne ha scritti anche altri in passato ma questo è particolare, anche come titolo lo possiamo vedere in sovraimpressione. Eccolo qui, i H870 Ustica, gli eretici di Antonio Bordoni. Ecco, diciamo subito Antonio, perché gli eretici? Beh, immagino che già gli ascoltatori e i telespettatori abbiano capito, visto che sei tra i pochi che sostiene l'ipotesi bomba, ma sei in ottima compagnia però, dobbiamo dire. Come libro di mostra, d'altra parte, come libro di mostra. Guarda, di certo se chiedete a qualsiasi vostro conoscente la sua opinione sull'incidente di Ustica, la risposta che otterrete è univoca. C'è stata una battaglia aerea, quel 27 giugno 1980, il 19 si è trovato nel momento sbagliato, al posto sbagliato. Questa è la mainstream, derivante però, tengo a precisare, da un processo pubblico di piazza che alla fine non poteva non influenzare pure le attività giudiziarie. Lo scopo di questo libro è di sensibilizzare l'opinione pubblica e i lettori su un particolare, a dir poco sconcertante, che ha accompagnato le indagini su questo incidente nel corso degli anni. Ed è un particolare che, a mio avviso, va evidenziato perché non è di poco conto. È mancata l'indagine tecnica. È bene che gli italiani sappiano che su questo incidente è mancata l'indagine tecnica, ovvero sia si è voluto accentrare su un unico soggetto sia l'indagine giudiziaria, con lo scopo di trovare il colpevole, sia l'indagine tecnica che invece andava lasciata a investigatori aeronautici professionisti. Questo modo di procedere, ve lo assicuro e sfido chiunque a contestare quello che dico, è assolutamente fuori dai regolamenti internazionali sulle investigazioni aeronautiche in tema di incidenti aerei. Ed è per questo motivo, per questo deprecabile modo di aver condotto questa inchiesta, se oggi, a distanza di 40 anni, ancora parliamo di mistero. Ovvero sia, non c'è stata un'indagine tecnica che doveva chiarire che cosa è successo e invece si è preferito puntare su un'indagine giudiziaria e tecnica mista, fatta tutta e messa insieme, accentrata su un unico soggetto, giudice istruttore, la quale alla fine non è arrivata a nessuna conclusione. Però, però, tutti i tecnici che sono stati chiamati a dire la loro opinione su cosa potesse essere successa Ustica, una volta che è stato recuperato il 95% del relitto, non hanno avuto alcun dubbio a dire bomba, esplosione a bordo. Ecco, questo è sempre stato, diciamo, ma più che un cavallo di battaglia direi proprio da esperto sicurezza volo e soprattutto da tecnico, quello che ha sempre sostenuto anche quando lo intervistammo alla Storia Oscura a Radio Cusano Campus, Antonio Bordoni. E ora ci ha scritto anche il libro con Giordano Bruno in copertina a proposito di eretici. Però questo alla fine fa riflettere molto Bordoni. Per quale motivo in Italia dobbiamo innamorarci di un teorema e diciamo dare anche in pasto all'opinione pubblica una storia che poi non rispecchia la realtà? Cioè che motivo c'era di dire è stata una battaglia aerea? Te lo sei mai chiesto? Ma guardi, della battaglia aerea, io mi chiederei come cittadino della battaglia aerea, se avessi delle prove che la battaglia aerea c'è stata. C'è stata. Ma a un certo punto, quando due radar, due radar, non uno, non hanno rilevato nessun velivolo intorno al 19, quando tutti gli aerei che hanno incrociato quell'aria intorno alle 20 e 59, non hanno riportato alcunché di anormale. Quando sul relitto del 19 non ci sta né il buco del missile né la mitragliata eventuale, gli spari di un qualche aereo attaccante. Tant'è, e le dico, penso che si sappia in giro, che i teoretici della battaglia aerea, una volta che è stato ripescato, riassemblato il 19, dal momento che non c'era nessuna evidenza del missile, si sono dovuti inventare la tesi della quasi collisione. Allora a questo punto dice perché la battaglia aerea? Ma la battaglia aerea non c'è stata. Che prova ne sia che 5.000 pagine del giudice istruttore, della sentenza d'ordinanza del giudice istruttore, non sono arrivate ad alcuna conclusione né ad alcuna prova. Anche la Cassazione questo poi lo dice. La Cassazione nel 2007 ha detto che l'ipotesi della battaglia aerea è fantascienza, è fantapolitica. Allora dico io, quando di fronte a questi fatti continuare a dire come tutti ben sappiamo quella sera c'è stato, come tutti ormai è noto quella sera, ma non è noto proprio un accidente, perché quella sera i piloti che sono passati in quell'area non hanno riscontrato alcunché di anormale. Io nel libro cito pure, perché a me piace pure provare quello che dico, dico guardate ci sono stati incidenti dove a un certo punto il capitano che ha incrociato di qualche minuto il volo incidentato è stato chiamato a deporre, è stato chiamato a deporre per dire senti un po', ma tu hai visto qualche cosa di sospetto, di anomalo quando ha incrociato l'aereo che poi è precipitato nel Mediterraneo eccetera eccetera? Sono stati interrogati. Io in questo libro, e già l'ho detto l'altra volta, cito veramente delle cose allucinanti di come sono state condotte le indagini, ovvero sia non è stato interrogato nessun pilota, che pure c'era, in circolo intorno all'area di Ustica alle 20.59, però sono stati riportati due casi veramente pazzeschi dal punto di vista investigativo. Guarda che nell'agosto 81, ovvero che 14 mesi dopo l'incidente, un aereo dell'Anitalia in quell'area ha avuto un certo problema, guarda che nel maggio 82, due anni dopo l'incidente, un altro aereo dell'Anitalia volando su Ustica ha avuto un altro problema, ma tu vai a interrogare chi alle 20.59 volava? Ma inutile mi dici che un anno e mezzo dopo un comandante ha incontrato un traffico scolastico tipo triangolo delle Bermuda praticamente, stando a queste cose, a queste ipotesi. Ecco, però a questo punto chiedo ad Antonio Bordoni, ovviamente chiedo anche nella risposta il dono della sintesi perché è chiaro che non è facile, ma perché è giusto parlare di tragedia di Ustica causata da una bomba a bordo, verosimilmente piazzata nella toilette dell'aereo, che è poi documentato tutto questo sul libro che ha scritto, riportando anche dichiarazioni, dicevo, di autorevoli esperti. Perché la bomba a bordo? Cosa ci fa capire che fu una bomba, non un missile né una collisione aerea? Allora, la bomba a bordo non lascia, lascia assolutamente delle tracce indelebili e Frank Taylor, l'investigatore aeronautico britannico, ha trovato le prove che sono state trasmesse pure da Mayday, dalla trasmissione National Geographic, che le parti di tubo che hanno avuto determinate malformazioni, sono tipiche dell'esplosione a bordo e ha dimostrato pure che se è avvenuta un'esplosione a bordo in quella certa zona si spiega pure tutta la sequenza della rottura del velivolo. Ora, la bomba a bordo sarebbe stata l'indagine che ci avrebbe portato dal punto di vista tecnico a determinare le cause della sciagura e a far sì appunto poi, una volta detto bomba a bordo, che il giudice penale istruttore si fosse, si fosse, avesse accentrato le indagini alla ricerca del colpevole. Invece il giudice priore purtroppo ha preso su di sé l'incarico sia di determinare l'indagine tecnica, di determinare la causa tecnica, sia di determinare chi è stato il colpevole. Ed è stata un'opera immane che sinceramente non ha portato a nessuna conclusione. Infatti il giudice priore non ha detto il colpevole è quello e è accaduto sicuramente quell'altro. E poi nel 2007 c'è stata questa sentenza della Cassazione che lo ha smentito, che ha smentito tutto il castello che era stato costruito con la sentenza ordinanza. Però poi ci sono stati anche i risarcimenti nei confronti familiari delle vittime, sono stati condannati dei ministeri a questi risarcimenti. Ma perché tutto questo? No, questo è scritto nel libro, perché purtroppo in Italia abbiamo la giustizia penale, che va per la sua strada, e la giustizia civile che può ignorare le sentenze del penale e andare avanti per la sua strada. Però vi assicuro che mentre la sentenza della Cassazione penale del 2007 è stata il frutto di non so quante udienze chiamate di testimoni, le sentenze dei tribunali civili. Non fanno altro che con copia e incolla delle zie è stato un missile per cui il governo italiano deve risarcire. Come è stato ormai appurato, ma non ci sta nessuna base tecnica scientifica dietro queste sentenze civili che ogni tanto vengono fuori e che continuano a dar soldi ai redi dell'incidente di Ustica. Torniamo anche al libro, perché l'ho letto e ci sono tanti spunti interessanti che fanno riflettere. Per esempio, Ordoni, un altro aspetto interessante è quello che evidenzia a proposito delle associazioni familiari delle vittime, perché esiste anche, se ne parla poco, effettivamente magari molti conoscono solo quella ufficiale di associazione familiari delle vittime, ma esiste un'associazione familiari delle vittime per la verità su Ustica. Quindi questa associazione non ha accettato la tesi? Assolutamente no, si è dissociata dall'altra associazione perché a un certo punto non condivideva le idee di questa associazione. E poi non so se voi avete seguito o ci avete fatto caso, però a un certo punto ogni qualvolta questi signori appaiono in televisione spavaldamente continuano a affermare che la verità è la loro, è indiscutibile e non può essere messa in discussione. C'è un'altra associazione che chiaramente ha preso le distanze da questo modo di fare dall'altra associazione e segue una sua via indipendente. I punti importanti, se lei ha avuto modo di leggerli nel libro, io vorrei soltanto ricordare questa storia del pacchetto imbarcato lì che si è trovato a Bologna, cioè il 19 Tigi, quando stava parcheggiato a Bologna, Fontana e Gatti, il comandante e copilota, hanno chiamato a terra, hanno detto scusate ma sto pacchetto qui che mi trova nel galle dell'aereo, ma che cos'è? Da terra gli hanno detto, risposta, dice guarda lo dobbiamo portare a Palermo perché devono cambiare un pezzo dell'aereo. Allora voi dovete sapere che né Fontana, né Gatti, né il comandante Palaggi che ha portato l'aereo fino a Bologna dalla tratta precedente, erano stati informati di questo pacchetto. Adesso quando si svolgono indagini su un incidente aereo, quando la commissione Luzzatti aveva già detto probabile esplosione a bordo, ma santo Dio, ma vogliamo andare a indagare su questi particolari? Che cos'è questo pacchetto che doveva andare a Palermo? Chi l'ha messo lì? Perché il comandante Gatti e Fontana non sono stati informati? Perché Palaggi che ha portato l'aereo a Bologna non ne sapeva nemmeno lui niente, non solo, ma dal momento che la base tecnica dell'Italia sta a Ciampino, voi dovete sapere che quel giorno l'ITG aveva già volato da Roma a Palermo e quindi il pezzo avrebbe potuto essere scaricato già a Palermo nella tratta precedente, mentre invece continuava a girare a bordo e ripeto il particolare inquietante, né il comandante Fontana né Palaggi né Gatti sapevano niente di chi avesse messo questo pacchetto a bordo. Lo dico non per dire guardate che la soluzione sta lì, ma per dimostrare in che modo sono state condotte le indagini. Ma non solo poi, ci sono anche altri elementi che Bordoni evidenzia nel libro. Certo, un altro elemento molto interessante. Tante cose ancora oscure. Rapidamente, che nessuno aveva ancora sollevato, nel 2017 è stato pubblicato un libro di un dipendente dell'Italia di La Mezzia Terme, se non vado errato, il quale riceveva delle telefonate da Bologna, circa il ritardo con cui partiva l'IH870, e a un certo punto questo impiegato dell'Italia afferma testualmente nel suo libro, pare che c'è un passeggero a Bologna che si è smarrito, non si trova, per cui l'aereo sta ritardando l'imbarco. Signori, quando c'è un passeggero che non si trova, pure lì al check-in, un aereo che spaisce in mare e che si suppone un attentato, ma bisogna fare le indagini per sapere chi era questo passeggero che non si trovava, perché io vi ho raccontato l'ultima volta cosa succede con i passeggeri che lasciavano le valigie, se ne andavano e non si imbarcavano ancora. Sì, nell'altra puntata. Ecco, questo è un altro aspetto inquietante, così come inquietante anche l'aspetto di criminali a bordo, che avrebbero dovuto essere a bordo. I detenuti a bordo non è stato mai chiarito, nessuno ha indagato, quindi io più di quello che ho scritto lì non vi posso dire, però l'elencazione di questi fattori è veramente illuminante sul modo con cui sono state condotte le indagini che hanno puntato assolutamente sulla teoria della battaglia aerea, escludendo così con molta faciloneria tutte le altre possibili vie, tra cui anche quello dell'attentato. E anche la questione dell'altro incidente che c'è stato il 27 giugno 80 è molto interessante, cioè nella stessa ora in cui si verificava l'incidente a litigi, cadeva nel mar Tirreno, nel mare fra Elba e la Toscana, un altro pilivolo con tre persone a bordo e i mezzi di soccorso erano impegnati anche su quel fronte. Allora, siccome il 14 agosto del 1980, pochi mesi dopo l'attentato, l'incidente dei litigi, si verificava l'esplosione all'isola d'Elba dei trasmettitori di radiocorsica libera, quell'aereo lì che è caduto il 27 giugno 80 alla stessa ora in cui più o meno cadeva l'intigi, veniva, andava, veniva, andava dall'Elba e quindi io pure lì una indagine per sapere se per caso fosse stato questo aereo manomesso in modo tale che quando cadeva l'intigi i mezzi di soccorso fossero impegnati già sul fronte di questo incidente e quindi subivano ritardi sull'altro fronte dei soccorsi al 19 Italia, anche lì questo era un aspetto che andava indagato, ma ce ne sono tanti. Ma ce ne sono tanti, è vero, emergono proprio nel libro di Antonio Bordone. A vista d'occhio. Ecco, tanti a vista d'occhio. Le chiedo, lei parla di indagine tecnica che avrebbero dovuto fare, non diciamo fatta da tecnici, ma in quel 1980 esistevano già delle commissioni tecniche come esistono oggi? Allora, guardi, nel 1980 all'indomani dell'incidente aereo di Ustica è stata messa sulla commissione Luzzatti, la quale ha raggiunto la conclusione dopo due anni, quindi nel 1982 più o meno, che l'incidente fosse dovuto a un'esplosione interna o esterna. Però, attenzione, attenzione, quando Luzzatti ha chiuso la sua indagine non si aveva nessuna parte del relitto del 19, infatti Luzzatti conclude la sua indagine investigativa dicendo sarebbe opportuno che venga ripescato il relitto dell'aereo in modo tale di poter determinare con più. Successivamente sono state avviate le ricerche, è stato preso il 95%, è stato riposchiato il 95% e una volta che si è messo su i tecnici, guarda caso, ha detto guarda che qui è scoppiata una bomba. Però questo qui, come ha detto Frank Taylor in un'intervista ai giornali italiani, dice io non capisco perché i giudici ci hanno chiamato, io ho preparato un rapporto di mille pagine, ho trovato quello che ho trovato e i giudici hanno voluto ignorare questa mia ricerca per dar adito alla faccenda della battaglia aerea di cui sul relitto non c'è traccia. Ripeto, tant'è che si sono dovuti inventare, hanno ripiegato sulla quasi collisione. Questa è la verità. Infatti io per questo proprio in apertura ho detto ipotesi missile, poi comunque si è parlato anche di collisione, di quasi collisione. Siamo in chiusura del nostro appuntamento con Antonio Bordoni, con quella che è la strage di Ustica. Intanto ricordo, avete visto immagini relative alle commemorazioni che ogni anno poi ci sono, il 27 giugno dell'80. quest'anno ci fu anche una commemorazione generale unendo la tragedia di Ustica, le vittime di Ustica alla tragedia della strage di Bologna e le vittime della strage di Bologna. Per chiudere proprio con Antonio Bordoni, visto che abbiamo avuto modo di vedere anche dei titoli di giornale a proposito della strage di Ustica, che parlavano di bomba, di pista eversiva e poi nell'agosto dello stesso anno esplode una bomba alla stazione di Bologna. Quindi pista palestinese, pista dell'eversione nera, strategia della tensione. Non è più automatico e facile il collegamento tra queste due tragedie, piuttosto che parlare di battaglia aerea. Non viene automatico o come poi era venuto automatico in un primo momento? Anche questo è spiegato nel libro. Apposta glielo chiedo. Perché a un certo punto, con tutto quello che è successo in Italia in quegli anni, anni, in quei giorni, in quei mesi, la bomba a bordo era proprio il moto default per far cadere un aereo. E riguardo all'immagine che sto vedendo qui sul video del Museo della Memoria che è stato messo su a Bologna, è anche il caso di ricordare agli ascoltatori che secondo i regolamenti internazionali, finché non si sono concluse le indagini e finché non si è chiarito per quale motivo è avvenuto l'incidente, quel relitto dell'aereo andava conservato a pratica di mare. Perché se oggi giorno noi non possiamo riaprire le indagini su quell'incidente... Dove stava? Andava lasciato dove stava? Esatto, andava lì tenuto in custodia giudiziaria. Questo lo dicono i regolamenti internazionali. Tu non lo devi esporre al pubblico per farne un monumento. Se non hai determinato la causa della sciagura, lo tieni a disposizione delle autorità investigative, giudiziarie, ma non lo metti in una piazza. Adesso quello che sta al Museo della Memoria non è più abile a essere messo nuovamente sotto la lente di ingrandimento per determinare ulteriori indagini, per avviare ulteriori indagini. Ma evidentemente, ormai come diceva prima Bordoni e come affermano in tanti, sappiamo che, siamo certi che, abbiamo saputo che, insomma, ormai si è voluto chiudere il cerchio con quella tesi. A noi che invece piace sempre approfondire e mettere sul tavolo tutti gli elementi, come avete visto e sentito, facciamo parlare gli esperti, sentiamo, come si dice, tutte le campane. Grazie Antonio Bordoni, ricordiamo il libro che ho qui sulla scrivania, ma che ha anche Luca Rossi in cabina di regia a proposito di quella che è la copertina, quindi la possiamo fare rivedere con l'ausilio della nostra regia. Eccolo qui, le retici a proposito della strage di Ustica, perché è appunto la tesi della bomba, mentre prevale quella del missile della battaglia aerea. Grazie ancora Antonio Bordoni, esperto di sicurezza volo, a presto. Grazie a voi dell'ospitalità, alla prossima. E buon lavoro, chiudiamo anche il terzo capitolo di Crimini e criminologia di oggi, tra poco volteremo ancora pagina, perché andremo alla nostra Galleria degli Orrori, non vi anticipo nulla, ma restate sintonizzati su Cusano Italia TV, perché c'è un protagonista della Galleria degli orrori di molti, molti anni fa, di secoli, dobbiamo dire, addietro, ma non svegliamo nulla, quindi tra pochissimo ne parliamo qui a Cusano Italia TV.